Chuck si gira buongiorno amici prima che accadesse tutta la questione del coronavirus parliamo nell'autunno 2019 sì, credo fine ottobre ecco, avevo portato a termine il mio libro Liberi nella trappola il libro è pronto, pensate è stato stampato insieme a un documentario musicale e il progetto che sarebbe dovuto partire proprio in questi giorni è rimasto bloccato a causa appunto del coronavirus che dire guardando questa copertina qualcuno mi ha detto che ha avuto un presagio personalmente fra i tanti pensieri non mi sento di escludere che a volte l'inconscio può percepire situazioni che generalmente sfuggono alla ragione spero che questa storia passi presto e che io come tutti voi possiamo tornare a condividere quello che più abbiamo a cuore un caro saluto a tutti Beppe Frattaroli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti